Falsificavo le relazioni per convincere il Tribunale dei Minori a togliere i bambini e le famiglie. Cinzia Magnarelli, ex assistente sociale a Bibiano, ha confessato davanti al giudice delle indagini preliminari e raccontato come funzionava il sistema, ammettendo di aver avuto parecchi dubbi, culminati nella richiesta di essere assegnata a un altro servizio. Ma finché è rimasta agli ordini di Federica Anghinolfi, ha fatto come tutti, certificando che case in ordine erano fatiscenti e piene di muffa, che i panni stesi ad asciugare erano vestiti buttati in giro, che i bambini avessero comportamenti sessualizzati. È la prima a collaborare e per questo il giudice le ha revocato l'ordinanza di sospensione dell'attività. Intanto le indagini vanno avanti e da un altro interrogatorio emerge la vicenda di due gemelline cinesi strappate alla madre a soli due mesi, solo perché la donna era dovuta tornare in Cina per la morte del marito. Per tre anni hanno vissuto separate, pochi giorni fa sono iniziati gli incontri protetti con quella che a fatica devono riconoscere dopo tanto tempo come la loro mamma. E poi c'è il capitolo del denaro che doveva per forza finire al centro studi Hansel e Gretel. E quando l'Unione dei Comuni della Valdenza non riusciva a pagare i consulenti, venivano creati falsi affidi. Alla cuoca del centro la cura furono assegnati due bambini in cambio dell'assunzione. Lei doveva poi girare agli psicoterapeuti i soldi ricevuti.